Ciao, sono Luca Lolletti e vi do il benvenuto su Garage Water Basic, il primo corso entry level gratuito online che approfondisce attraverso semplici video tutorial gli argomenti principali della ginnastica in acqua. Buon divertimento! Grazie per la visione! Bene amici ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina così vi arriverà subito la notifica di tutti i nuovi video. Per informazioni dettagliate sul mondo Garage Water o sui prossimi corsi di formazione visitate il sito www.garagewater.com oppure la pagina ufficiale di Facebook. A presto!